Segretario, un commento ora che le urne sono chiuse, lo spoglio è finito al risultato della coalizione per quello del Partito Democratico. Chiaramente c'è delusione per l'esito del voto, noi abbiamo cercato di creare una proposta molto concentrata sul governo del territorio della provincia dell'autonomia, evidentemente non siamo stati capaci di comunicarlo, congratulazioni a Fogatti per la riconferma, il Partito Democratico è il primo partito in Trenpino, c'è la rappresentanza più grossa in consiglia provinciale e quindi insieme agli altri alleati con cui abbiamo costruito l'Alleanza Democratica Autonomista ora lavoreremo da domani per radicarci, per fare un lavoro importante in vista dei prossimi appuntamenti. Qual è un rammarico, un rimpianto di questa campagna elettorale? Probabilmente ha inciso molto il livello nazionale, quindi questa onda di destra che c'è in tutta Europa e che c'è anche in Italia chiaramente e c'è stata una massiccia presenza di ministri del governo che hanno cercato di spostare la dinamica dal territoriale al nazionale e quindi forse noi invece non siamo stati bravi a spostare di più il dibattito su quelle che erano le responsabilità della provincia e della guida dell'autonomia.